Swing trading e day trading, qual è la differenza tra questi due approcci al trading molto diversi che richiedono anche un impegno molto diverso? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio portarvi un esempio pratico, due esempi pratici in realtà che mi permettono di spiegarvi meglio, per tutti quelli che ancora non ce l'hanno chiaro, qual è la differenza tra un trader che fa swing trading e un trader che fa day trading o addirittura intra day trading. Già le parole dovrebbero spiegare un po' da sole quelli che sono i due approcci. Allora ragazzi, il day trader o l'intra day trader è il trader che apre e chiude operazioni nella giornata, che quindi sfrutta movimenti sui mercati nella giornata. Di solito il day trader è quello che utilizza time frame bassi, time frame a 15 minuti, time frame a 1 ora, massimo time frame a 4 ore. Lo swing trader è invece un trader che va a cercare opportunità sui mercati di trend che inizia, di inversione del trend, operazioni che di solito durano qualche giorno o qualche settimana e che quindi sono operazioni di più ampio respiro. Il trader che fa swing trading lavora su minimo, su time frame a 4, a 4 ore, ma di solito lavora sul giornaliero. Ok, questi sono i due time frame prediletti. Qual è la differenza tra questi due trader? Beh, la differenza è che il day trader deve stare tutti i giorni davanti al monitor a cercare opportunità, a aprire e chiudere operazioni, quindi è una persona che quasi lo fa full time e sicuramente dedica parecchie ore tutti i giorni della sua vita al far trading. Motivo per cui ragazzi, io day trading l'ho fatto in passato, c'è stato un momento nella mia carriera da trader in cui ho fatto day trading perché lo volevo fare, perché lo volevo provare, perché ero curioso di capire anche, cercare le strategie che funzionavano, però quello che ho capito dalla mia vita e dal mio carattere è che uno, non voglio che il trading diventi il mio lavoro, o meglio, non diventi il lavoro con cui devo camparci e quindi che mi deve dare ogni mese uno stipendio per poter far fronte a tutte le spese che ho, perché non mi piace, perché emotivamente vedo che tendo ad accusarlo di più, quindi invece voglio far trading in maniera più rilassata, per cui io sono più uno swing trader, se proprio devo mettermi in una di queste due categorie. Lo swing trading mi permette di mettere degli alert e di gestire il trading in maniera molto più rilassato con pochi minuti al giorno, perché ho semplicemente degli alert che metto, quando mi scattano so che cosa mi devo comportare. Quindi questa è un po' la differenza e non è che molti pensano, ah ma lo swing trader allora stando meno davanti ai grafici guadagna meno del day trader, no, non è assolutamente affatto detto, lo swing trader sicuramente fa meno operazioni e quindi è anche meno esposto, lasciatemi dire, alle commissioni, alle fee, eccetera, rispetto al day trader dove, diciamo, va a fare profitti su piccoli movimenti e quindi per lui gli spread sono importanti, l'entrata a mercato è fondamentale, per lo swing trader un po' di meno, ma le performance a fine anno possono essere uguali o viceversa lo swing trader potrebbe profittare meglio del day trader o viceversa. Insomma, questo per dirvi, non è che un tipo di trader guadagna meglio di più di un altro. Allora, qual è l'esempio che voglio portarvi? Guardate, sono due esempi pratici, concreti, sto sul forex, dollaro neozelandese, nei confronti del dollaro americano e qui mi sono impostato un bell'alert qua. Perché mi sono impostato un alert? Guardate, vi faccio vedere, qui c'è stata una bella rotation, cioè il prezzo ha fatto questo doppio minimo qui, poi ha iniziato questo primo impulso che ha rimbalzato sulla media 200 periodi, ha ritracciato e ha creato un nuovo impulso rialzista. Poi qui è successo qualcosa in prossimità di questa struttura, di questi massimi qua, però prima di arrivarci, il prezzo, c'è stata una rotation, nel senso che il prezzo ha preso ed è andato dall'altra parte, è crollato dall'altra parte, quindi ha rotto questi due minimi e si è andato ad appoggiare su questa struttura 0.62 e 70, che era una struttura importante del passato. E adesso sta reagendo. Qual è l'idea? Quando succedono questi scenari, e qui siamo nell'esempio di swing trading, quindi sto infatti sul time frame giornaliero, quando ci sono questi scenari in cui il prezzo ha una forte rotazione e a un certo punto inverte velocemente, vuol dire che sono entrati le mani grosse, che hanno portato e hanno spinto il prezzo in basso. Tra l'altro guardando anche, guardate qua, qui c'è stato un momento di accumulo, e se guardiamo questo momento di accumulo, faccio un secondo zoom, per farvi vedere cosa che mi piace ancora di più quando guardo queste opportunità, questo accumulo, che non a caso è, adesso vi faccio vedere dove arriva, vedete che qua il prezzo ha rallentato un attimo la sua discesa, è sceso, si è fermato, e guardate qua che bellissime candele doji che ha fatto, ne ha fatte praticamente quattro, una, due, tre, e questa è secondo me la più importante, grande candela con grande spike verso l'alto, piccolissimo corpo verso il basso, e infatti a seguire di questa candela cosa è successo? il grande impulso candela ribassista giornaliere, il prezzo che è sceso di nuovo. Adesso il prezzo sta girando, sta tornando, che cosa, qual è la mia idea di swing trading qua? Ve la faccio vedere subito, è la seguente, mi prendo come al solito il mio bel indicatore, l'intervallo fisso per vedermi i volumi, e qua vado a, non l'ho, però magari se lo seleziono è più facile, e qui vado a, eccolo qui, guardate, aspettate che come al solito devo cambiare a tic per riga, e che cosa noto? Guardate, adesso questo è lo studio dei volumi, i volumi sulla price action, non i volumi sul tempo, quelli volumi sul tempo li vedete qui sotto, i volumi sulla price action, e qui vedo un paio di cose molto interessanti, vedo che, qui casca il mio punto di controllo, dove mi sono infatti messo l'alert, perché questo è il mio punto di attenzione, diciamo è il mio segnale, che mi dice Marco, vai a guardare i prezzi, perché qua intorno puoi entrare, badate bene ragazzi, questi non sono consigli finanziari, nessuno deve fare nulla guardando questo video, dovete avere le vostre strategie, e non dovete aprire un'operazione, perché Marco ha detto che probabilmente qui intorno aprirà un'operazione, perché è una strategia molto ben precisa, testata nel tempo, so dove mettere stop loss e take profit, non fate stupidaggini di copiare a pappagallo, senza sapere il trading plan che c'è dietro, fatto sta che qui quello che noto è che proprio in prossimità di questo piccolo accumulo, durato poco ma con candele molto interessanti, casca il POC, il POC è il point of control, dove si sono concentrate la maggioranza degli scambi di volume su quel prezzo, scambi che poi hanno portato il prezzo a crollare, ora qual è qui la pensata, questo ragazzi è un indizio importante che mi dice, qui sono entrati istituzionali, sono entrate le mani forti, sono entrati quelli con i capitali che hanno spinto il prezzo verso il basso, l'idea è che quando il prezzo tornerà, se tornerà ovviamente, se tornerà verso il punto di controllo, ci saranno comunque quelli che hanno venduto qui, che vorranno difendere le loro posizioni, sì è vero che qualcuno avrà chiuso qui, qualcun'altro avrà chiuso qui, ma ci sarà qualcuno che qua non ha chiuso, e quindi qui ci sarà una grande battaglia tra i seller, chi ha venduto, per far scendere il prezzo e vorrà difendere la posizione, e i buyer che in questo momento stanno avendola meglio, perché stanno facendo tornare il prezzo verso l'alto, e questo porterà uno sbilanciamento che di solito statisticamente si concretizza con un piccolo ritracciamento, questo non vuol dire che poi il prezzo qua prende, rimbalza e torna verso il basso, o che non torna più verso l'alto, no, quello che io so è che statisticamente qui c'è una lotta, viene combattuta una lotta, e il prezzo sentirà, sente di solito i punti di controllo, e del resto queste candele qua me lo fanno pensare ancora di più, quindi quando il prezzo arriverà qua, io saprò come comportarmi in base alla mia strategia, e questa ragazzi è un'operazione di swing trading classica, adesso vi faccio vedere come ragiona il day trader, l'intraday trader, l'intraday trader sta per esempio sull'orario, supponiamo che adesso qui siamo sull'orario, sta in caccia di opportunità, usiamo lo stesso approccio, ed ecco qui un'opportunità molto interessante, perché? Perché qua vedete c'è stata una rotation del prezzo, il prezzo qui ha, vedete che ha accumulato, guardate questa fase di accumulo del prezzo, è sceso un pochino e poi boom, è esploso, prima gamba che è esplosa, ritracciamento, seconda gamba rialzista, e adesso che cosa sta facendo? Sta di nuovo consolidando, lateralizzando, sono su time frame orario, bene, allora qui stesso approccio di prima, mi vado a prendere lo stesso indicatore, però è cambiato il time frame, e quindi è cambiato un po' tutto, e qui io quello che voglio andare a vedere è, che cosa è successo in questa fase, quindi metto il volume profile, come al solito vado a cambiare i tick per riga, quello che scopro è, il punto di controllo non a caso, non era un caso ragazzi, quando ormai i volumi, saprete leggere i volumi, non vi serve quasi nemmeno più lo strumento dei volumi, no? Perché lo vedrete ad occhio, qui casca il POC, il punto di controllo, quindi qui c'è una importante, c'è un importante momento, poi che cosa vedo? Vedo un altro cluster di volumi importanti qua, questo cluster è importante, li vedete qua, i volumi si vedono meno, un po' più sbiaditi, perché non fanno parte della value area, che invece è questa, questi sono i, è stata la partenza del prezzo, qui è dove hanno caricato gli istituzionali, e poi boom, hanno fatto esplodere il prezzo per farlo arrivare qua, perciò, qui potreste dire, Marco, ma quindi, dove dovrei ragionare con l'operazione? Dovrei ragionare sul punto di controllo, o dovrei ragionare su questo secondo cluster di volumi? Vi dico perché io, e la mia esperienza, diciamo, mi fa ragionare su questa parte qua, su questo cluster, semplicemente perché il POC qui è già stato testato, che vuol dire? Guardate, prezzo esplode, torna indietro, vedete qua come è andato a tornare indietro, testare il punto di controllo, per poi di nuovo esplodere, questo per me è, io lo chiamo nel mio gergo tecnico, un livello già testato, e quindi, non può far più parte di una mia operazione, perché il mercato lo ha già testato, perciò, qual è la mia ipotesi qui? Che se il prezzo scende, adesso si sta caricando il prezzo ragazzi, questo è il contesto migliore, lo so che molte persone pensano che qui non sta succedendo niente, ma invece questo è il momento migliore, perché è il momento in cui il prezzo si carica, per poi prendere una direzione, potrebbe essere verso l'alto o verso il basso, se va verso il basso, io so che aspetterò il prezzo arrivare qua, e potrebbe non arrivarci mai, eh, badate bene, non mi importa, tanto il day trader, quello che fa è cerca operazioni su time frame corti, ma ne cerca più di una, adesso io sto ragionando solo sul dollaro neozelandese, nei confronti del dollaro americano, ma avrò ovviamente tutta una serie della mia watch list, che andrò a controllare ogni giorno, ogni ora, per vedere se ci sono opportunità, quindi qui parlo di un'opportunità che potrebbe mai verificarsi, io sono in attesa che il prezzo ritorni qui, e di nuovo testi senta questo cluster, perché qui chi ha fatto andare long il prezzo verso l'alto, difenderà le sue posizioni, quindi ci sarà una lotta tra buyer e seller, solitamente questa lotta si trasforma in un ritracciamento del prezzo, prima di poi prendere una decisione definitiva, cioè se vinceranno i seller, il prezzo scenderà, se vinceranno i buyer, il prezzo tornerà verso l'alto, ma a me non interessa sapere o cercare di indovinare se vinceranno i buyer o i seller, a me interessa con la mia strategia solo di intercettare il ritracciamento, la lotta, l'inizio della battaglia, poi il risultato della battaglia, chi vince la battaglia mi interessa di meno, capite? Io ho usato questa metafora, a me interessa definire, il campo di battaglia è questo, è questo livello qua, io voglio solo aspettare che inizi la battaglia, entro, entro, mi prendo il mio profitto, in base alle mie regole della mia strategia testata nel tempo, e quindi so dove mettere stop loss e take profit, mi prendo o il profitto o la perdita e me ne vado, poi la battaglia, chi la vince e dove finisce, amen, sono un day trader, faccio intraday, operazioni molto corte, ragazzi, avete visto stesso approccio, ma su due time frame diversi, con due finestre temporali di durata diversa, perché l'operazione di prima, magari per attendere che si verifichi, devo aspettare giorni o settimane, poi quando entro, magari devo aspettare settimane, prima che vado in stop loss o in take profit, operazione invece di questo, per il day trader, è un'operazione su time frame basso, che di solito, nell'arco di qualche ora, o si verifica o il prezzo va da un'altra parte, e passo alla prossima operazione, la differenza, il tempo che dedico ai grafici, se fate il day trader, non potete un giorno passare tre ore sul grafico, il giorno dopo non fare niente, poi dopo due giorni ho 30 minuti e faccio 30 minuti, no, non funziona così, ecco perché è importante saper definire, nel proprio trading plan, il proprio stile di trading, in base anche a quanto tempo avete, quanto volete dedicare a questa attività, io preferisco far lavorare i soldi al posto mio, e non fare trading per scambiare il mio tempo per soldi, perché come al solito, altrimenti è sempre limitato al tempo che gli posso dedicare, e poi se faccio quello non posso fare altro, nella mia vita io preferisco avere più entrate mensili, e non concentrarmi solo una, diversifico per avere più entrate, e avere quindi meno rischi, e cosa pensate voi? Lasciatemi qui sotto un commento, un like se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!